Le proposte per risolvere la crisi idrica, illustrate dalle opposizioni in Consiglio regionale, non hanno convinto il centrodestra che ha bocciato la mozione presentata dal centrosinistra. Per il governatore Francesco Roberti, ad esempio, non è una soluzione impiegare i fondi FSC per ristrutturare le reti idriche comunali, risposta che non è stata gradita dal Consigliere regionale di costruire democrazia. C'è stato una sorta di sberleffo rispetto a quella che era una serie, e sono state una serie di proposte che avevamo inserito nella mozione che ci sembravano di assoluto buonsenso, come quello di potenziare gli investimenti sul miglioramento della rete idrica e fognaria dei vari comuni. A fronte di quello, diciamo, la maggioranza è andata completamente in confusione. Per Massimo Romano non è sufficiente nemmeno la strategia annunciata in aula dal governatore, secondo cui servirà un piano di rientro per consentire a Moliseacque di recuperare le somme spese per fornire l'acqua, il che non escluderebbe un aumento delle tariffe per i cittadini. La sofferenza finanziaria di Moliseacque, che è appunto imputabile non a Moliseacque, ma a chi non ha pagato, deve essere risolta e deve essere colmata. Dobbiamo immaginare qualcosa per il futuro. In questo senso la proposta che ho formalizzato in Consiglio regionale è quella di applicare la legge 168, che sostanzialmente riconosce e garantisce il diritto delle comunità locali all'uso civico sulla risorsa idrica. Il capo dell'Aggiunta regionale poi in aula ha anche bacchettato le amministrazioni che non versano le somme dovute per l'acqua e ha chiesto ai sindaci più controlli per evitare gli allacci abusivi, soluzioni che non convincono Romano. Una seduta dove purtroppo è emersa ancora una volta una grande miopia dell'attuale classe dirigente regionale perché a fronte di un problema che i cittadini stanno vivendo sulla propria pelle mi pare che la politica brancoli nel buio. Grazie a tutti.